E' appena finita la partita con Bellusco, la capolista, ne siamo usciti vincitori 3-0, come si si aspettava è stata una partita combattuta, ma che ci ha visto favorite nel fare meno errori, nell'essere più compatte e nel trasferire in campo quello che abbiamo preparato durante l'allenamento. Sicuramente i miglioramenti si vedono, quindi i ringraziamenti vanno a tutte le mie compagne come sempre e allo staff che ci supporta e prepara le partite. Grazie.